Grazie a tutti Contatto, 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 nemico, nemico, contatto Sì, dovremmo andare bene Nemico, nemico Vado sulla prima lette Io non uso anche Elimina tutti i bersagli Cassa di scorta individuata Ostile in discesa nell'area Occhio in alto Porta in alto la mano Vaffanculo Due team Sono due personalità Compagno inviato nel Gulag C'è uno da me Non ti credo, due caravini Caravini Non ti ho più colpire, gà Hanno conciato per le feste il vostro compagno A terra Non ti credo Obiettivi aggiornati Passare alla prossima area Ma ecco ci sta uno Tiè, tiè, tiè Tiè, tiè Uno da me Ti mani andato Uno da me nel regalo Due da me, due da me Due da me, due da me, due da me Arriva il gas Sono io Che stavo, dove stavo? Regà, me c'è Te lascio le piastre No, no, oltre le piastre Me serve le munizioni per le MT5 Assolutamente Eh, le uso quelle piccole Mi serve Eccole Dovete rifornirvi Te le so pingate le munizioni piccole Andrei, se mi mi va sui mango Oh, io ce l'ho fatto 4 kg già Io tre Dai, Alessio, mi stavo Correte Raggiuggete la zona Regà, c'è stato questo? Ho un fucile d'assalto Andrei, no, mi sono in giù Alessio, stavo le munizioni piccole Stavo avanti Ok Re, re, abbi un nuovo Passare alla prossima area MF5 Ah, è, prete giusto Ok, quindi Sto ammazzato Può essere calato Quindi Obbligivo principale raggiunto Tutte le casse di scorte trovate Genti alla città Ci diamolo Regà, ecco ci sta una bandiera Ma coppialla Io, io, io Ecco ci sta una ricognizione E' mc qui Raggiungete il punto indicato E mettete in sicurezza l'area E' proprio ampio Sta un shop UAP nemico in volo Sta qua C'è un venditore per fare scorte Io mi fai la conquista prima, io C'ho io pochi sordi Io Sto veramente Ti aprimo le armi Ah, è mentre ti tiro il UAP UAP alleato in sorvolo Avvio scansione radar Sta là lo shop Sembrerebbe uno Sopra i palazzi Informazioni tattiche ottenute Ottimo lavoro Sto uno sopra Regà, dovete E morriò io Che sta comporando l'ultimo Sto sopra di un nezzo Eh, non lo so Sto anche io Va coppia il lancio Rubio io Va coppia il lancio Un attimo L'ultimo Sto a casa Top Arriva un lancio D'equipaggiamento Lì in mezzo Un nemico davanti a me 30 metri 20 metri Davanti a me 23 metri Qui dentro sta casa 10 metri Destra Sta sopra Team UAP Un nemico Di volo Oh, ma ci metti Metti Non morito 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 A me Un lancio D'equipaggiamento In arrivo Tutti i metti Sì C'ho otto corazzi Se mi serve Gas in arrivo Spostamento Della zona sicura Team nemico Vi sta in seguo Dovete rimornirvi Qui c'è un venditore Vago più a lui Vago più a lui No, non me lo faccio Mi serve 600 Compro Uno avvi E bus tutto Qui ci sono soldi Grazie a me Qualche coraggio Io sto bene Te la combo Te la combo Grazie Va Buon finito Allora vieni qua Io lo soppiato O no Oh, però Non mi fate Sperare Non so Pro che far Allora Serve a qualcuno Pichiamo la bandiera Iman safe Pichiamo in safe Hai pure la bandiera E safe Stai da solo Stai da solo Mezzo Perché hai solo Sto aspetta a voi Come deve Dove fare il kill Beh, ci deve fare il kill Beh, ci deve fare il kill Però Ah, ma non sarà Amore Stai da solo E mi darà pare che sta a far Partita In braccia Uap In nemico In volo Eh, che c'ho a casa Che mi è venuto Che vada Oh, mi sto sparando Da, 30 37 Ragazzi Tu anni E Uno colpito Uno colpito Arriva Igas Oh, così Perché faccio sempre Da risca io Lo spiegate No Craccato uno A terra Uno A terra Nermato uno Mi sa A terra Tim Ma E' un impatto Io 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 Come si Diamo Un MC Set O Io Questa è la corazza Grossa Io 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 Vandarmi Infatti No È troppo Lontano Ah Io Vandarmi Io 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 Potrebbe essere È la taglia È la taglia È la taglia È la taglia Vado In casa Vado In casa Vado In casa ciao io minaccia 3 minaccia 3 è boccato compagno nel gulag se sopravvive può tornare in azione via 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 sali 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 ti 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 ha male visti che morti verde sali sopra, arriva la solista davanti a me davanti a me davanti a me davanti a me non mi ha confermato strano no cazzo porto di porca madò porto di tu cazzo è paracaduto compagno in rientro nell'area operativa se la fai vai veloce sulla roba tua vedo colpi per lanciatore siete ammazzati quelli? stazione medica qui non tutti però eh no non ne la faccio non ne la faccio non so ragazzi ma lei si aferri animando stazione medica qui dove stai? in movimento in movimento in movimento ignorate quello che ho detto in movimento in movimento in movimento in movimento in movimento c'è un venditore per fare score in movimento oh e basta in movimento ignorate quello che ho detto faccio una messa da stupidi un avvi nemico in volo si questo qua davanti questo qua davanti questo qua davanti questo qua davanti qui lo blu andrea ogni tanto guardateci qua guardi un avvi nemico in volo un avvi occhio macchina davanti a me prendiamo un'idea un avvi nemico in volo un avvi nemico in volo un avvi nemico in volo si dà seppara ma arriva il gas un avvi nemico in volo e basta vado pure io 4 partite e corre una qui non so un avvi un avvi 약 nemmico in volo un avvi ok una terra uno a terra uno a terra lì dietro un altro a terra Questa è l'amici? Questa è l'amici, pingami. Uno, sì, sotto a me. 32 metri. Happy. No, so vedo l'arma. No, regà. Tu hai ragione? Regà, ti è morto uno solo. Morto, morto, morto. No, lei è morto, è morto, è morto. Questa è una meraviglia di roba, regà? Mi muovo, regà, mi muovo. Andiamo, 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 veloce, 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 veloce. Mi ricordo che qua c'era i genetici, eh. Mezzo, mezzo, monta qua sopra, a sinistra. Vado di qua. La ricognizione, la ricognizione. Veloce, venete, veloce, venete, veloce. Che mi pare da sopra, devi calare, devo fare più veloce. C'è un venditore per fare stop. Eh, il shop sta... Ho appingato. Ho appingato. Ora che stai... che vengono in giù. Obiettivo principale raggiunto. Informazioni tattiche in sicurezza. Casa di in arrivo. Nuova zona sicura contrassegnata. Rega a te la cambieremo Io m'ho tirato su Riccardo E ci mettiamo a camberà Me ne prendiamo un cazzo forza Vedete qua vedete per oggi Dove ho avuto? Fuori fuori Grazie non gli stai giù c'è cazzo Lo cambieremo Rega da G2M1000 Butta 1000 Bocchiamo andrò a casa Sì dentro la casa Forza Chiudi le porte Ragazzi in avvicinamento Sarete di quando la fai Sto so credendo No 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 Eh si è ruota a me questo per dare il benvenuto andrea non stai conosciuto per niente una terra un po sotto avanzando si è appunto a dire sotto sta fuori dalla safe alleato insorbolo a mio scansione radar il piano nato cambriamo su stagate rea non devo scappare io vorrei cercan'arma per la safe non si chiuderà mai mi muovo laggiù attendi che qui mira da sta finestra rientro occhio che comunque questa casa c'ha l'ingresso avvistato matt spingali eh non lo vedo più UAP nemico in volo nemici qui ah no lì non li vedo lo scontro è finito siamo fuori safe ora è una città fantasca andiamo a cambiare casa gas in movimento nuova zona sicura individuata vado di qua visti vitti arriva con la sopra in movimento arriva un lancio d'equipaggiamento in movimento arriva avril in movimento vol' imagino A terra, a terra 1, a terra 2 Qui in garanzoni che sperano in inizio qua, non so se l'ho smazzato Qualcuno mi spara Avete del gas, in arrivo Porca puttana ragazzi Dove l'è? Piazzate un attimo veloce, nascondete piastrate A terra tutti e due, morti tutti Mi dirigo qui Dove? Ragazzi siamo fuori safe Dove stai Verge? Qua Controllo qui intorno Non te vedo Dove stai? Passate dietro, passate sopra, scappa qua eh Mi muovo laggiù Occhio lei Mandato in UAV, ce l'amo dietro Qui già 4x0 confermato, abbattugliamento UAV iniziato Occhio ragazzi, vai qui ragazzi In movimento In movimento 6 dei primi 25 ottimo lavoro morto rientro forzato per fare ricordi riega se siamo buoni qui non ho già visto nessuno uniamoci riega, uniamoci riega, uniamoci in movimento, riega qui stimo il bordo meglio in movimento, in movimento in movimento, in movimento attenzione, bollettamento di precisione ma l'ha atterrato riega, mi serve una malattia, tiratemi su sta io sotto ti ho ammazzato io, lo guardo a me bravole guardo di me dove vai riccardo a lei ha fatto un minore a esca nemici nell'area io ero su quella casa attenzione in movimento mi sparano c'è un lanciatore da destra visto visto io non capisco come faccio e non voglio è impossibile riega riega, è uno le mette con me tutti con me tutti con me tutti con me no, no, che cazzo che fa? tutti con me adesso però tiro eh a sinistra dovete fare il tiro con me ne mancano dieci dentro la casetta piccola ma guarda che stifo eh nooo ma ha terrato regà da là in fondo ok ha chiuso la porta c'è stato uno anche fuori avvio scansione radar regà a destra a destra in alto a destra in alto a terra eliminato è la safe a terra eliminato finisci il lavoro uno in alto a destra dentro dentro è eliminato eliminato è lui la tre contro uno tre contro uno la lo s'ho spingato vinto grazie ben fatto grandi che l'abbiamo fatto grandi che 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 se è stata dura eh se non si è stata tanta dura che è stato affatto il che deve fare però è come come che come 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 Ok, ok. E' il primo, ho fatto lo doppio dei danni vostri? Guarda, 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 guarda. Grazie a tutti.